Scusa, tu quando mangi Kinder Brioche? Io a colazione. E voi? Oh, anche a merenda Kinder Brioche ha più latte e più proteine. Grazie. Prego. E a scuola? Certo, meglio una Brioche con tanto latte. Visto? I ragazzi preferiscono Kinder Brioche. È lievitata naturale, ha due strati al latte ed è sempre fresca per la sua confezione ermetica. Insomma, è fatta apposta per i ragazzi. Abbiamo detto ragazzi. Kinder Brioche dalla Ferrero Kinder Division.